Allora, finalmente abbiamo rotto l'assedio, ho mandato i rinforzi da Edessa E... reclusamento, qui non c'ho niente Mi servono dei cavalli qui E... diciamo, sto inviando le truppe lì nei luoghi dove posso riaddestrarle Quelle che posso, ovviamente Qui ho una spia armena Al tuo servizio 175 45 Questo è troppo lontano Khalid è un assassino loro, quindi proviamo a far fuori Khalid Successo, perfetto E aumentato in assassino 90 niente di che 160 145 40 40 72 145 Ha fallito immagino Ha fallito Questo è il mio diplomatico Ok, arrivano di rinforzi, vedo Questo riesco a corromperlo? Quanto vuole? 61 61 358 Potrei tenerli in considerazione, questo Adesso la cosa più importante è respingere questi Ok Ok E far fuori questo Quindi abbiamo un guadagno di 18.099 Gli persiani Gli persiani sono il più avanzato Degli imperi Ovviamente guadagna più 1 di comando Più 2 di comando quando difende le città Questo va bene Allora qui abbiamo una rivolta Questo ce la fa? Sì Ok E ripariamo i cavalli Sicuramente qui c'è una spia Quindi a Tessalonica avevo fatto degli agenti 90 Per adesso non pare che ci siano spie Ratiaria è quasi finito Qui è messo tutto bene Ci siamo fatte per l'esercito marridotto Ok Qui non c'è nessuno Continuiamo a rivegare Qui ho la flotta E qui ho la mia Continuiamo a salire Per il resto abbiamo Corinto Che è un grande foro Corinto Cosa mi potrebbe reclutare? Pseudocomita Tenses Pseudocomita Tenses E quelli della Macedonia I sagittari Va bene Niente cavalli qui quindi Va bene Quindi I sagittari E un fortilizio Però dovevi fare prima questo Quindi facciamo questo E mettiamo in coda questo Ok Nicopoli Turazzo Singidum Vedo che ha finito Qualcosa per l'ordine pubblico Magari una chiesa Abbiamo una crescita Dell'1.5 Se tolgo questo Facciamo una taverna Che sta quasi finito Radiaria Quasi finito Toremice sta costruendo Anche qui stiamo costruendo Tebbe no Tebbe cosa mi potrebbe fare? Abbiamo del malcontento Per via della religione Quindi facciamo una chiesetta Petra E' cresciuta Petra Abbiamo un po' di malcontento Per via della religione Posso fare un tillage O un mercato Facciamo un accampamento Anche se questo mi danneggia Un po' per la corruzione Vediamo 20.000 Sì Perfetto Le mandiamo 7.669 2.000 E mi deve arrivare 6.000 Le mandiamo a Petra E le congediamo a Petra Così cresce anche la popolazione Di poco ma cresce Perfetto Stiamo costruendo tutto E la capitolina è libera Vedo Potrei fare un'armeria O delle catacombe 4 turni 4 turni 4 turni per la pesca 2 turni per i bagni Che non sarebbe male E poi ci mettiamo in coda questo Sì sì Perdo un po' Lo so Non è uguale Cesarea 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 Ok possiamo fare questi Disagittare i buccellari Non sarebbe meno male Sviluppiamo un porto Tiro ok Damasco è ok Veroea Veroea Non ha niente di truppe Peccato Posso fare questo Irrigazione quanto mi dà Public health 5% Non siamo messi poi tanto male Facciamo un public stage Public stage Public stage Public stage poi in cosa si evolve Vediamo Public stage In un teatro Ma si facciamo un public stage 3 turni E ok Ah C'ho l'anatolia che è un po' messa così così Trapezzunte Vedo che ha sistemato Non mi ricordo se era la statua o qualcos'altro Il regolamento non siamo messi bene Qui posso fare i limitanei I limitanei I comandati tensi I spunti Oppure anche i cavalieri 4 turni 3 turni Facciamo prima questo E ok Amida È messa Leggermente bene Rotazione delle culture Possiamo fare una taverna Del grano Facciamo dei bagni Sì Due turni Ci stanno bene Ancira È sviluppata Sì e no Qui mi servirebbe A cristianità Siamo messi bene Casa di guarigione 4 Questo E va bene Questo mi cresce Però abbiamo dei ribelli Che li ho visti 0.5 Sì Dovrei fare aumentare la crescita Questa è solo Relicità 120 Facciamo questo Sinope Va bene Così Attalia Abbiamo un problema Di tassazione Che pesa Ok Questo dovrebbe togliere Un po' di malcontento Efeso Efeso Questo è per la strada È casa di guarigione Sì Pergamo sta costruendo Costantinopoli Che stiamo costruendo Ok Qui ci siamo Poi Voglio spostare Questo esercito Ma finché Ok Posso muovermi Certo Capitano Bene Quello che volevo Dunque Buon comandante Positivo E cristiano Confidente Nell'attacco Buono Nelle boscate Cristiano Flessibile Forse Meglio Andare Fra vita Stilico Prendiamo Lui E ci prendiamo I domesticorum Spostiamo qua A veterano Ok Più uno comando Più uno giustione Ok Tax income Quindi questo lo diamo a Lui Ok E lo muovo Sì ho un malcontento 85 Ci butto Due di queste E con questo Incomincio a spostarmi Verso est Ad anciro Questo Questo magari Lo potrei dare A lui Sì Così già è meglio Perfetto Qui cosa posso reclutare Gentaccia C'ho giusto Due cavalieri Ma sì Qui ho questi Signore Magari Però mi mancano Gli arcieri E questo è il problema Sì ho questi Io ho dell'Asia Cesarea Vabbè O Cesarea O questi Quindi sì Questi li riaddestriamo Un campo di intrattenimento Quindi facciamo Due di questi Che poi li uniamo A quello Magari faccio fuori Questi Però sprecare Questo esercito Ok E avanziamo Questo lo stiamo tenendo A bada Campus Godis Ci siamo quasi Questi non mi preoccupano Ah qui cosa possiamo fare Vediamo Ok Il Paganesimo Sta scendendo Sta aumentando un po' La corruzione Di crescita Andiamo anche Abbastanza bene Un mercato Non farebbe male Facciamo una chiesa Ci serve la conversione Qui Bella forte Una balista E ok Quaggiù Com'era invece La situazione Sono a Campus Agrippina Ehm No Volevo vedere Quest'altro Ok Quindi L'impero romano È alleato Con i franchi I franchi Sono alleati Con l'impero romano Nemici Dei visigoti Gallo romani Alamanni E burgundi Burgundi Con cui magari Potrei fare un trattato Di pace Che ne dite No Parlerò subito Con loro Informazioni Geografiche Per informazioni Geografiche Ehm A questo punto Ehm Facciamo che ci dai Anzi Facciamo una cosa più Regolare Tributo Di 100 Per 11 turni E io vi do Informazioni Geografiche 280 Per informazioni Geografiche No Ehm Ci adentriamo Verso gli Alamanni Quindi Questo Lo posiziono Qua E attacco Quello che voglio Vedere adesso È questo Signore Quindi Trapezzunta È messa Bene Diciamo Sinope Abbiamo questo Che è un burocrate Ed è un cristiano E poi stiamo facendo Questo Quindi Ultimo Sguardo Alle spie Questa in azione Questa in azione Per fare Controspionaggio Questa in abate Ha fatto il suo Dovere No C'è questo Ok Quindi Qui i romani Hanno riconquistato Qui i romani Hanno riconquistato Qui mi pare Che sia Ribelle E beh dai Non se la cavano mai I romani Hanno ripreso Territorio Questo Questo è un sicario E si è mosso Attendo i tuoi ordini Queste sono Sono ribelli Quindi non mi interessa Sì Mia signore Parlerò Andiamo a parlare con gli alani Mi servono Un attacco alla fazione Dei Degli armeni Sì E ve ne diamo 20.000 Sì Anche così Li finanzio Perfetto Spia armena Informazioni geografiche Informazioni geografiche Sì Hanno accettato Ma non pare Che ci siano Cambiamenti Di sorta Il che Non so come Interpretarlo Anche se Sì Questa è armena Quindi Eh sì Hanno preso Questo territorio Qua Eh io Devo prendere Questa Questa Così L'indebolisco Ultimo Pommimento Di agenti Tu sei a tiro Ok Che livello eri Livello 1 Ah ho sempre questi E' vero da Entro in azione Ok ho sempre questi qui Mi sono scordato E' vero Sì Signore Sertica Fa contro spionaggio Questa si è mossa Questo si è mosso Questo sta qui Sì Quindi avevo anche questo esercito Sneaky E con questo facciamo fuori questi Con questo Prendiamo Palmira Ecco Questi devo cercare di Corrompere questi Va bene E' vero da